110 ettari di vegetazione distrutti dalle fiamme e il dato aggiornato sul fronte degli incendi che ormai da quattro giorni stanno divampando tra Venafro e Pozzilli. Stamane il cielo sopra i due comuni solcato dai mezzi antincendio. All'elicottero della protezione civile si è affiancato il Canadair alzato sin volo da Napoli. Il fronte è proprio il caso di dire più caldo quello in località costa lunga di Pozzilli. Il rogo divampato nel primo pomeriggio di domenica nell'area boschiva in prossimità di via Atinense nonostante l'intenso impiego di uomini e mezzi in realtà non si è mai fermato del tutto dopo aver lambito alcune abitazioni è avanzato lungo la montagna ora a bruciare e la pineta in località costa lunga in tutto una cinquantina gli ettari di montagna inceneriti. Nel preoccupante bilancio della distruzione da rimarcare che sono ormai circa 60 gli ettari distrutti dalle fiamme su Monte Santa Croce sul versante della montagna tra Venafro e Conca Casale visibili da stamattina nuovi fumaioli. Anche in questo caso per i nuclei antincendio impegnati da giorni nell'estenuante lavoro non c'è tregua. Intanto i carabinieri forestali di Venafro proseguono nell'attività investigativa tesa a risalire ai responsabili di tanta distruzione. Accertata la matrice dolosa a Venafro con il rinvenimento dell'innesco assai probabile quella per l'incendio di Pozzilli ma di qui ad arrivare ai nomi beh il compito sarà a dir poco complicato. Intanto le montagne nel Venafrano continuano a bruciare.